anche se stiamo giocando col dio della guerra noi diciamo no alla guerra e dopo questo spot totalmente ipocrita completamente ridicolo vi invito a passare se ancora avete la voglia per i miei social che vedete linkati in basso insieme ai vecchi gameplay di cui sono vi posso dire soprattutto gli ultimi di guardarli perché hanno reso il gioco più interessante e mi hanno dato quella presa che fortunatamente aspettavo da tanto e che è arrivata quindi ragazzi guardate i vecchi gameplay perché sono state scoperte vecchie cose guardate anche quelli successivi ma come sempre guardate sempre anche i social niente io direi di passare al ai fatti e continuare la storia di god of war felicissima sera felicissima sera a lei ronandone simioli discordo non funziona stasera ma guarda non lo so io oggi non ci sono proprio entrato ancora quindi non saprei dirti c'è lì non lì l'abbiamo preso me l'ho dato ancora guarda ha invitato il metano poi ho fatto il telegram sì ho visto ma non ti preoccupare antono non è successo cioè non c'è bisogno di scusarsi non hai rovinato nulla nella vecchia intro stai tranquillo anzi io ripeto come dico sempre a me fa piacere quando c'è la gente che interagisce durante la live quindi la gente si chiudere pensi prima di agire pensi prima di agire siamo preparati per affrontare una potente sono pronti se stai sì anche qui se lo faccio per qualcosa se lo faccio andiamo 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 e 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 madonna santa u più davanti più poi becco nemici più pesanti ma io come e 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 era quasi morta e 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 di due oresmen di statuesi. Non ho chiamato quello che era, ma non c'era sicuramente. Credo che ci vediamo perché le Valkyries sono così? La città ha un significato speciale per loro. Abbiamo trovato qualcosa lì, sicuramente. ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti. Che cazzo mi devo fare tutti questi frammenti io? Ecco ho fatto tutto. Ha detto che devo andare alla parte dove stanno i troni. Ho visto che non li stavano... Covid? Consiglio delle Valkyrie eccolo qua. Ho sbagliato ci doveva andare dopo. Vabbè con pilla. Vabbè. 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 Qua dovrebbe essere un tesoro eh? Vabbè. 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 Hmm 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 What's going on? Oh Hmm Mm Oh Hmm bir Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se non sbaglio qua dovrebbe esserci qualcosa da su cui scendere. Grazie a tutti. No, infatti mi sa che ricordavo io, ma non è qui. Grazie a tutti. Grazie a tutti. No, non è qui. Grazie a tutti. 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 inutile affrontarle troppo forte questo ci rivedremo troppo inutile affrontarle attraeus sure i'm open attraeus 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Non ho capito ma Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Yeah next time Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Oh vengo Intanto che scende questa cosa torno subito Grazie a tutti 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 Musplem Vedere a tutti Grazie 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 a tutti